Grazie Presidente. Sentendo un po' tutti gli interventi, il primo a cui vorrei in qualche modo rispondere è al Professor Baldelli, che fa la lezione sul decreto legge e disegno di legge. Le volevo dire tra decreto legge e disegno di legge, che è diverso. La cosa che le volevo dire è che noi volevamo farle lezioni di legalità, perché è un condannato a quattro anni per evasione fiscale. Non dovrebbe farvi alzare così tanto la testa, ma la dovreste tutti quanti nascondere. Con poche lezioni. Poi sento dire che il Parlamento, la Camera dei Deputati ha cambiato marcia e noi abbiamo approvato zero leggi. Questo Parlamento ha approvato zero leggi. Quindi se c'è un cambio di marcia vuol dire che prima andavamo sotto lo zero e quindi non è proprio possibile una cosa del genere. Terzo, noi cerchiamo solamente, anche magari sbagliando, ma riportare la realtà delle cose. L'atto che è un mero adempimento in cui facciamo oggi e che la Presidente ha convocato la Camera dei Deputati per un mero atto formale di adempimento, perfetto e giusto. Stiamo solamente dicendo che all'esterno e a tutti i cittadini italiani deve essere trasferita questa informazione e nessun'altra informazione, sennò diventa un'altra cosa e facciamo credere altro. Punto. È su questo il concetto fondamentale che vogliamo trasferire. Terzo, noi diamo i titoli ai decreti, perché chiamiamo il decreto sul femminicidio. Il decreto, e lo ripeto un'altra volta, ha al primo contrasto della violenza di genere. Secondo, sicurezza e sviluppo dei Paesi africani, frodi informatiche, danni alle infrastrutture energetiche e violenza negli stadi. Tre, norme in materia di protezione civile. Quattro, gestione commissariale delle province. Questo è un decreto che mette dentro tutto come tutti gli altri decreti e noi ci siamo veramente annoiati di ratificare decreti del Governo. Vogliamo che il Parlamento Zero Leggi diventa un Parlamento con tante leggi e anche rispetto agli altri parlamenti che lei ha citato nel suo post su Facebook, dove noi facciamo un'operazione più ridotta, numero di giorni più ridotto di vacanze, ma loro fanno un numero di leggi, di iniziativa parlamentare molto più grande delle nostre. Se le possono prendere le vacanze, forse. Grazie.